Buongiorno Smyr Buongiorno mamma Eh ma... Oggi è il 1 novembre E quindi? E quindi non abbiamo fatto nulla di halloween Cosa? Il 31 ottobre è passato Cioè il 30 ottobre abbiamo dormito Abbiamo dormito per tutto il 31 ottobre Solo ci siamo svegliati Caspita Halloween è passato Era il mio periodo preferito Vabbè lo festeggerò in ritardo Hmm... Però mi sembra una buona idea Bene ragazzi Vi ero nuoti qui perché siete i più grandi amanti di halloween che conosco Ma quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo festeggiare halloween in ritardo Esattamente capro Ma halloween è passato Sta zitto halloween è una festa bellissima E come dovremmo festeggiare halloween in ritardo? Boh facendo un video speciale di halloween E' già partito Ah bene E che dovremmo fare tipo un rituale qualcosa? Ho già preparato un rituale ma non vi dico che razza di rituale è Ci serve una carta di qualsiasi tipo E l'impronta di uno rieti e di un caprosuco Bisogna per forza avere me per fare questo rituale Ora dobbiamo solo aspettare Ma scusa Smilo che rituale è questo? Non lo so Cosa? Si ho cercato rituali e mi è uscito un rituale e non ho letto il... non ho letto che rituale è Potrebbe anche essere il rituale che fa venire una banda di umani armati O qualcosa di peggio tipo un mostro O un sacco di cagnolini Cagnolini Sono più pericosi di quello che credete Avete sentito? Ciao ragazzi che state facendo? Halloween in ritardo? Vi voglio dire anch'io Ma quindi questo era il tuo rituale? Ehm no è il rituale di qualcun altro E di chi? Ehh? Oh nooo No aspetta Ma è un cane Non è un cane Non è un cane È un cagnolino Ma scusa non è la stessa cosa? No non lo è Io me la darei a gambe Fisto scarpa come lui Scusa che differenza c'è tra un cane e un cagnolino? I cagnolini possono fare cose terribili E cioè? Comme non è chiaro Ah 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 UV dunno Scampateii Comunque un acqua è la differenza tra un cane e un cagnolino Questo cane è comunque pericoloso E voi ragazzi lasciate il mio piacere e iscrivetevi al canale se volete degli animali vivi Non avremmo dovuto festeggiare Halloween in ritardo Cosa? Non è Halloween? Caspita, io volevo spaventare qualcuno. Vabbè, ci rinuncio. Beh, a quanto pare abbiamo risolto. Sì, più o meno. Diciamo che non siamo stati noi. Cioè, lui se n'è andato. Vabbè, l'importante è essere tutti vivi. No, l'importante è che il cagnolino se ne sia andato. Io me ne scappo. La prossima volta festeggerò Halloween esclusivamente il 31 ottobre. Io probabilmente non vorrò mai più vedere Halloween in vita mia. E io che cosa vi dicevo? E io che cosa non vi dicevo? Beh, un'altra avventura finita in modo strano. Eh già, quasi come tutte le altre nostre avventure.